Adi, associazione per il disegno industriale, rappresenta le idee e gli interessi del sistema del design in Italia e nel mondo. Davide, partiamo con queste chiacchierate subito dalla importanza di far parte di un'associazione come l'Adi che promuove la cultura del design da decenni e soprattutto intensifica negli ultimi decenni anche un lavoro di assegnazione di premi ma anche di promozione del design italiano nel mondo. Cosa vuol dire per te che sei un brand che lavori tanto in comunicazione? Far parte di questa associazione cosa significa? È una cosa molto importante da un punto di vista interno al gruppo mio di lavoro perché ci dà la possibilità di misurarci, di ricevere, nel caso dei compassi d'oro, è stata una cartina tornasole della nostra passione. E nello stesso tempo la visibilità all'esterno è stata importantissima, devo dire, tra gli addetti lavori e anche i non addetti lavori. Quindi è un riconoscimento, appartenere a un'associazione di questo tipo così antica e così prestigiosa è sicuramente molto importante che invito tutte le aziende ad aderire a questa cosa. A farne parte anche perché quello che ci raccontate in queste brevi interviste è anche uno scambio di idee, non ci sono solo i tavoli dove si va a ragionare, a portare delle istanze, eccetera, ma ci sono anche dei tavoli dove si ragiona, dove ognuno scopre a volte le proprie carte e dove un modello di comunicazione che tendenzialmente a livello italiano è singolo, è individuale, diventa in qualche modo collettivo, senza scoprire segreti ovviamente, però andando a determinare un ulteriore progetto che è quello della comunicazione collettiva. Sì, è vero, in ogni caso è un'occasione, un momento di condivisione, di scambio, fondamentale. Il mio lavoro è un lavoro fatto certamente di ispirazione, di creatività, ma anche di metodo e partecipare a questi tavoli è un'occasione, sono occasioni per capire quali sono i metodi delle altre aziende, degli altri creativi, insomma, molto molto importante. Ti farei una domanda sul tuo momento, su cosa state facendo, a cosa state lavorando, non nel dettaglio, cioè dopo la consacrazione dei premi ricevuti ovviamente c'è sempre la volontà di ripetersi o comunque di domandarsi come arrivare a certi livelli, però quindi partendo magari da questo andare a raccontare brevemente a cosa state lavorando. Sì, guarda, aver preso questi premi per me è stato sicuramente, non posso negarlo, motivo di grande soddisfazione, ma nello stesso tempo ho continuato a fare il mio lavoro come sempre con passione e con ispirazione. Sto lavorando, stiamo lavorando sulla possibilità che la luce, soprattutto in questo momento storico da un punto di vista anche tecnologico, non è solo uno strumento per vedere, ma anche uno strumento meraviglioso per sentire e quindi quello che cerchiamo di fare è fare attrezzi che servono per vedere, per vedere le cose, perché la luce artificiale poi alla fine serve a questo, ma anche per sentire e quindi tutto il tema della seduzione, tutto il tema della profondità e tutto quello che può essere fatto con la luce, ad esempio avvicinare le persone. Una luce sinestetica, dicevamo anche in una recente conversazione pubblica, vorrei farti un'ulteriore domanda che riguarda, visto che abbiamo parlato del presente e del passato, il futuro. Che cosa suggeriresti ai tuoi compagni di viaggio, diciamo così, cioè agli altri associati ADI e soprattutto all'ADI, di guardare, di traguardare, cioè quale sarebbe secondo te una direzione giusta da seguire in comunicazione, in iniziative, che ne so, anche una cosa che potrebbe cambiare la situazione presente. Ma guarda, io quello che cerco, ad esempio nel mio lavoro, quello che cerco di promuovere è prima di tutto una sorta di cultura umanistica che manca purtroppo nel nostro comparto, perché spesso, ad esempio, per chi fa lampade, fare lampade è proprio solo fare lampade, stiamo vivendo in questi giorni la fiera più importante al mondo e devo dire che molto spesso chi si presenta si presentano in modo proprio di persone che fanno lampade. Ecco, io cerco sempre di andare oltre la lampada e quindi tutto quello che è l'aspetto umanistico, tutto quello che è l'aspetto di significato, l'aspetto semantico, oltre al segno, oltre all'estetica, secondo me è fondamentale, molto importante. Nello stesso tempo invito le persone a guardare i giovani, ad ascoltarli e l'arte. L'arte, la letteratura, comunque si richiama a quello che dicevo prima, insomma l'arte, gli artisti sono sempre persone, quelli veri, insomma, sono sempre persone che offrono la possibilità di guardare avanti, di guardare il futuro, di metterti nelle condizioni di guardare le cose come non sono mai state guardate, insomma. Come forse sai, ho lavorato un po' con Enzo Mari, ho fatto la tesi su di lui, e lui dice sempre, tra le altre cose, che il progetto è allegoria, esattamente quello che stai dicendo, e ha scritto anche delle istruzioni per i giovani, per un progetto è giovane. Volevo chiudere questa breve conversazione, non finirei mai, però volevo anche darti questo merito. Tu sei molto riconoscente, hai raccontato anche in conferenza i tuoi inizi, quindi le persone che ti hanno aiutato, adesso con i premi hai detto esattamente questo, cioè riconoscere da dove si arriva per essere giustamente, nella condizione mentale corretta per andare avanti. Questo fa parte anche questo del discorso culturale, dove la cultura non è solo nozione, ma è un approccio. Sì, ma io perché penso fa parte della mia cultura, della mia formazione, cioè noi siamo per le persone che abbiamo anche vicino, insomma. Il nostro destino dipende profondamente dai nostri pensieri, che poi diventano parole, che poi diventano azioni, insomma. In questo processo le persone che abbiamo vicino sono fondamentali, anche nella formazione del pensiero, anche in quello che facciamo e anche in quello che diventeremo, insomma. Quindi la riconoscenza è comunque un modo per coinvolgere le persone che con me hanno creduto e credono in quello che sto facendo e poi perché sinceramente io sono fatto così, insomma. Quindi sarebbe orribile se mi comportassi in modo diverso, insomma. ADI, associazione per il disegno industriale, rappresenta le idee e gli interessi del sistema del design in Italia e nel mondo.